Comune di Molfette, la ex Liberty Molfette, associazione sportiva divenuta successivamente SS Monopoli 1966 con cambio di denominazione, sono stati condannati in solido in sede civile al risarcimento nei confronti di Alessandro Di Ronzo dopo i fatti violenti accaduti al termine della gara di calcio disputata allo stadio Paolo Poli il 2 maggio 2010 contro l'allora Forti Strani. 11 anni e mezzo per una sentenza di primo grado del Tribunale di Trani che chiude almeno per il momento una vicenda che ha visto suo malgrado protagonista Alessandro, un semplicissimo tifoso della squadra della sua città in trasferta raggiunto da un tubo di ferro mentre tentava di uscire dal settore ospiti dello stadio, un oggetto contundente e pericoloso che colpendolo in pieno volto gli ha fatto perdere per sempre l'uso dell'occhio sinistro nonostante una lunga trafila tra ospedali e operazioni. A fine partita purtroppo c'è stato un lancio fitto di oggetti inspiegabilmente senza alcun tipo di preavviso che potesse precludere da parte mia la possibilità di poter allontanarmi dal luogo in cui stavano accadendo questi fatti. Uno di questi oggetti, in particolare una spranga di ferro, mi ha colpito in pieno viso nel lato sinistro del mio volto causandomi lo scoppio del bulbo oculare con la conseguente perdita visiva dell'occhio sinistro, frattura macellare, frattura del sito nasale, dello zigomo. Da lì c'è stato praticamente un escursus di operazioni, ho affrontato quattro operazioni. Da un semplice pomeriggio di sport ha una vita cambiata radicalmente. Il principio assunto dal Tribunale di Trani è però importante. Le responsabilità dell'evento sportivo e dell'impianto di gioco dove si svolge l'evento sportivo sono dell'ente proprietario della struttura, in questo caso il comune, e della squadra di casa che organizza l'incontro. Un principio che farà sicuramente giurisprudenza e che parzialmente risarcisce del danno. Alessandro, sfortunato protagonista di quel pomeriggio. Diciamo che l'occhio non me lo riderà più nessuno. L'esperienza anche comunque mi ha segnato sotto tanti aspetti, non solo me, anche la mia famiglia che ha dovuto comunque sostenere parecchie spese perché io ho affrontato viaggi, i miei genitori erano disposti a portarmi anche fuori dall'Europa. Gli avvocati Barbere e Strippoli, che hanno curato la lunga battaglia legale e che probabilmente non è ancora terminata, hanno anche provato a portare il processo in chiave penale. Qui però è intervenuta ormai la prescrizione, anche perché materialmente non è mai stato riconosciuto l'autore materiale del lancio di quell'oggetto metallico. Alessandro però spiega di aver perdonato colui il quale gli ha cambiato definitivamente la vita e ci racconta un aneddoto curioso. In cuor mio io l'ho perdonato, ti sono sincero, l'ho perdonato sin dal primo giorno, perché anche il giorno in cui vennero delle foto segnaletiche in ospedale, io ero appena ricoverato, dove mi fecero vedere delle persone, se io riconoscevo qualcuno, ma io non riconoscevo nessuno, perché alla fine se avessi visto la persona avrei visto anche ovviamente la sbranca, quindi avrei cercato in tutti i modi di difendermi da quel colpo. Quindi nemmeno in quel caso nemmeno la rabbia o il rancore mi ha portato a indicare una persona, avrei rovinato la vita di una persona. L'unico vero rammarico dell'ormai quarantenne Alessandro resta quello di non aver mai ricevuto in oltre 11 anni un gesto di solidarietà dalle istituzioni molfettese e dall'allora associazione sportiva. Non c'è stato mai un interesse, mai una telefonata, mai una lettera, mai un chiedermi se io avessi avuto bisogno di un qualcosa, niente di tutto ciò. No, è inspiegabilmente, perché alla fine, ripeto, io ero lì per assistere a una partita di calcio e mi sentivo ospite di quella città. Un cerchio che si chiude, almeno per il momento, ma che riporta alla mente numerosi episodi di cronaca legati al mondo dello sport e del calcio in particolare. Qui viene sancito un nuovo principio, anche per i campionati minori, un viatico che in oltre 11 anni da quella giornata poi deve servire ancora da monito, sperando che episodi come quello siano un lontano ricordo. Grazie a tutti.